Erano quattro partite importanti, penso tre scontri diretti, non sono andate bene, abbiamo fatto solo un punto, il gioco c'è stato in alcuni momenti, a volte abbiamo fatto fatica a trovare le giocate, a esprimere il nostro gioco stiamo facendo un po' fatica nei 90 minuti, a Bari abbiamo fatto 45 minuti secondo me molto bene, nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo, abbiamo un po' sofferto i loro singoli e adesso dobbiamo ripartire dall'impegno che stiamo mettendo, che sicuramente stiamo dando tutti il 100%, probabilmente non basta, bisogna dare ancora di più, bisogna dare il 110% per tornare alla vittoria che adesso è la cosa più importante sicuramente, nonostante il gioco attraverso qualsiasi mezzo dobbiamo tornare a fare i tre punti. Penso che i play-off per noi sono abbordabili, penso che dobbiamo continuare così perché abbiamo una rosa con giocatori molto forti che hanno giocato in Serie A, che hanno fatto bene in questi anni, hanno fatto una promozione, quindi dobbiamo continuare in questa maniera, sicuramente mettendoci di più perché a quanto pare non basta adesso, non è abbastanza, ma sono sicuro che i risultati verranno, ne siamo sicuri tutti, abbiamo un allenatore che ha la sua storia, la sua identità, noi dobbiamo solo seguirlo e i risultati arriveranno. Stiamo facendo un po' più fatica a seguire il suo gioco, il suo modo di allenare, noi ce la stiamo mettendo tutta e dobbiamo cercare di stare più alti, di cercare di fare il più pressing possibile, di provare le giocate sulle fasce perché si basa su questo, soprattutto essere cattivi, giocare insieme corti, che questo è la cosa più importante e a volte ci manca. Sì, le prime partite comunque non giocavo per scelta tecnica, all'inizio ho avuto un po' di difficoltà comunque con gli allenamenti, sono diversi da quelli che ho fatto altri anni, sicuramente quello fisicamente non stavo benissimo al 100%, non mi sentivo benissimo, poi dopo l'infortunio ho ripreso bene, mi sento bene e tatticamente sì, è un calcio un po' diverso, però comunque sono concetti semplici da mettere in campo, la cosa difficile comunque è avere quell'intesa con gli altri compagni con cui giochi di reparto, è normale che col tempo pian piano arriveranno. La Provencella è una squadra ostica che ha una fase difensiva importante, la cura molto bene, sa ripartire, sa giocare, è una squadra bella, mi scudire, ignorante, che fuori casa sta facendo molti punti quest'anno, io conosco bene, loro basano il loro calcio su questo, sulla fase difensiva, sulla loro salvezza su questo, quindi dobbiamo essere bravi ad avere pazienza e cercare spazi per fare gol.